Odierna. Proclamazione di deputati subentranti. Dovendoci di procedere alla proclamazione di deputati subentranti a seguito della presa d'atto delle dimissioni dei deputati Roberto Cota nella seduta del 9 aprile scorso, Massimiliano Smeriglio e Nichi Vendola nella seduta odierna, comunico che l'aggiunta di cui all'articolo 3,2 del regolamento nella riunione odierna ha accertato ai sensi dell'articolo 86,1 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, decreto del Presidente della Repubblica numero 361 del 1957, i seguenti candidati che seguono immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo delle rispettive liste. Stefano Allasia per la lista numero 9, Lega Nord nella prima circoscrizione Piemonte 1 che subentra a Roberto Cota, Filiberto Zaratti per la lista numero 16, Sinistra Ecologia Libertà nella quindicesima circoscrizione Lazio 1 che subentra a Massimiliano Smeriglio, Arcangelo Sannicandro per la lista numero 12, Sinistra Ecologia Libertà della ventunesima circoscrizione Puglia che subentra a Nichi Vendola. Do atto all'aggiunta di queste comunicazioni e proclamo quindi deputati a norma dell'articolo 17 bis,3 del regolamento per la prima circoscrizione Piemonte 1 Stefano Allasia, per la quindicesima circoscrizione Lazio 1 Filiberto Zaratti e per la ventunesima circoscrizione Puglia Angelo Sannicandro. Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi. Ricordo che giovedì 18 aprile alle ore 10 è convocato il Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. La chiama avrà inizio dai senatori.